È stata molto dura, è la prima volta che la faccio, è spettacolare, però ovviamente non erano le mie gambe, non erano le mie capacità, si sapeva già, ho cercato di farla più piano possibile per recuperare le energie per domani, domani abbiamo un'altra possibilità e cercheremo di dare un massimo. L'obiettivo domani è ancora vincere? Eh, perché no? Non sarà facile, ma mai dire mai. Hai corso con Ivan Sosa all'Hombronio? Sì, ho fatto due anni con Ivan, siamo molto amici, di fatti stamattina scherzando gli ho detto se vinci offri, lui mi fa no, non ho la gambe, ma ho visto che ha vinto, quindi vuol dire che sta molto bene, sia lui che Bernal, li conosco bene bene, siamo stati in squadra insieme e sono contento per loro. E puoi parlarci un po' di Sosa nella vita, nelle gare? Ma Ivan è veramente un ragazzo speciale perché è sempre tranquillo, sta sempre sulle sue, è un po' timido, però penso che ha un grandissimo motore, affiancato soprattutto a Bernal, è una coppia molto forte, lo vedremo anche lui, secondo me nei prossimi anni vincere un grande giro. Grazie a voi. Grazie a voi.